Ehi tu! Abbiamo sentito che non hai ancora scelto la scuola superiore. Conosci le opportunità che offre il liceo Filzi? Tranquillo, te le mostriamo noi. Seguimi! Il liceo Filzi si trova in corso Rosmini a Rovereto, a pochi passi dalla stazione dei treni. Inoltre, è facilmente raggiungibile da tutte le linee degli autobus. Il liceo Filzi è una realtà inclusiva e formativa, che porta gli studenti a sviluppare le competenze fondamentali per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Inoltre, uscita da questa scuola, sarà sviluppato un efficiente metodo di studio, utile per chi ha intenzione di continuare con l'università o con corsi post-diploma. La nostra scuola richiede ai suoi studenti impegno, dedizione e costanza. Inoltre, permette di scoprire nuove materie come diritto, economia e scienza umane, indispensabili per capire una società in evoluzione come la nostra. Inoltre, permette di analizzare quei fenomeni sociali che ci circondano in continuazione da un punto di vista critico. Chi si iscrive in questa scuola può scegliere tra due indirizzi, economico-sociale e scienza umane. La scelta dell'indirizzo avviene con l'iscrizione al primo anno. Infatti, già dal biennio, ci sono materie specifiche. L'indirizzo scienza umane, infatti, approfondisce pedagogia, scienze naturali e latino. L'economico-sociale, invece, porta diritto d'economia e tedesco fino alla quinta. Prendiamo a scuola da lunedì al venerdì, con un solo pomeriggio obbligatorio la settimana. Il sabato, infatti, è libero. C'è inoltre la possibilità di iscriversi ad altri pomeriggi opzionali, come ad esempio quello di lingue per prepararsi alle certificazioni, quello di teatro, quello di musica per imparare a suonare uno strumento e molti altri. Infatti, ogni anno cambiano. Per quanto riguarda la proposta formativa, il FILSI propone laboratori di vario tipo, come quello informatico, quello di scienze naturali e quello di fisica. Questo è il laboratorio di scienze naturali, dove gli studenti fanno esperimenti e mettono in pratica la teoria. Anche in questo caso c'è una distinzione fra i due indirizzi. Infatti, l'economico-sociale affronta le scienze naturali solo durante il biennio, mentre le scienze umane per tutti e cinque gli anni. Andiamo ora a scoprire le attività e i progetti sportivi generalmente proposti nel nostro istituto. Andiamo in palestra! La nostra scuola offre varie opportunità sportive, oltre alle normali ore di educazione fisica. Alcune di quelle che sono state fatte quest'anno sono per esempio arrampicata, badminton, pallavolo, le Olimpiadi e la danza, ma anche difesa personale. Il FILSI è però disposto ad andare ben oltre. Quest'anno si è infatti iscritto ad una proposta provinciale di box ed è stata una delle due scuole selezionate in tutto il Trentino per partecipare al corso. La nostra scuola offre la possibilità di fare diverse esperienze sul nostro territorio. Esatto, come per esempio il progetto Montagna, che consiste in varie uscite guidate per conoscere meglio l'ambiente in cui viviamo. Sì, oppure delle collaborazioni con varie realtà locali, come le cooperative sociali. Come se tutto questo non fosse abbastanza, la nostra scuola partecipa anche a progetti provinciali, come ad esempio il progetto A suon di parole. Una sfida di dibattito in cui si argomentano e controargumentano temi attuali, prima classe contro classe e successivamente scuola contro scuola. Sei ancora indeciso? Noi ti invitiamo a iscriverti al Liceo FILSI! Tra tutte queste opzioni troverai sicuramente l'ambito che ti valorizza, le lingue, l'aspetto più scientifico, economico. Ma non dimentichiamoci anche le opportunità umanistiche, espressive e creative. Tra tutta questa gamma di proposte capirai certamente cosa è più adatto a te, cosa ti ispira e cosa desideri per il tuo futuro. Grazie a tutti!